È un impegno per la Sicilia, è un impegno per la creazione davvero di un partito che sia aperto e plurale, che ovviamente possa mettere in moto tutti quei meccanismi che oggi necessitano a questo territorio, a questa terra straordinaria. E quello di oggi è un incontro importante, un incontro che vede uno dei passaggi fondamentali che si dovranno affrontare nel corso di queste settimane, nel corso di questi mesi, quello di avviare un rapporto davvero preferenziale, davvero privilegiato con tutte quelle che sono le categorie produttive di questa terra. Dobbiamo recuperare questo rapporto, lo dico come rappresentante istituzionale, da sindaco di un comune importante della Sicilia, dobbiamo recuperarlo con la politica, dobbiamo fare in modo che si riacquisisca quella grande fiducia nelle istituzioni che man mano si è persa. Perché è chiaro che per creare crescita, per creare sviluppo c'è la necessità di far stare tranquilli tutti i soggetti che possono produrre davvero ricchezza. E questo deve essere il messaggio principale che dobbiamo lanciare a coloro che si scommettono, a coloro che tendono a cimentarsi in iniziative imprenditoriali, perché dobbiamo dire in maniera franca e concreta che non saranno mai soli, ma al loro fianco ci saranno sempre le istituzioni, ci sarà lo Stato, ci sarà la politica. Il Partito Democratico deve partire col piede giusto, c'è bisogno di una concreta innovazione, basta con i grandi annunci di cambiamento e poi con le miserie della politica. E questa grande innovazione deve produrre il Partito Democratico, si deve tradurre nel saper mettere insieme finalmente legalità e sviluppo. Il mondo del lavoro rischia di essere con disoccupati e con occupati senza diritti. E' il mondo dell'impresa di non essere realmente in competizione nel mercato. Ecco perché abbiamo bisogno di recuperare questo rapporto tra legalità e sviluppo, liberare il mondo dello sviluppo dalla burocrazia, presenza devastante, liberarlo da una classe dirigente che nella politica è arruffona, clientelare e collusa con la mafia. E bisogna fare in modo poi concretamente che si prepari una nuova classe dirigente che guardi in faccia la mafia, la sconfigga, promuovendo i diritti. Facendo in modo che i giovani abbiano più diritti, che la società sia più ricca di servizi e che il nostro tessuto sociale, economico e ambientale recuperi quella dignità che ha perso in questi anni.